Musica Musica Buonasera e bentrovati su Reteconomy, questa è Auto 3.0, speciale salone di Francoforte. Lo vedete alle mie spalle, siamo all'interno del padiglione del gruppo Volkswagen per questa nuova edizione del Salone Tedesco. Abbiamo tantissime cose da raccontarvi, davvero una puntata ricca perché il Salone di Francoforte ha rimesso in moto un po' il mercato dell'auto. Ci sono davvero tanti novità, tantissimi spunti interessanti. Tornano le auto da corsa, tornano le auto di lusso e c'è davvero tanta voglia di automobile. Musica Reteconomy, la nuova visione dell'economia. Musica Musica